Bravo sei, in silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi e buona domenica, come sempre oggi live 13.30 sulla piattaforma Viola, primo link in descrizione. Giocheremo insieme e parleremo di tutte le ultime notizie uscite sul mondo di Call of Duty. Ma partiamo subito con il nuovo TG COD, vi ricordo come sempre raggiungiamo i 1000 mi piace e se siete nuovi iscrivetevi al canale perché in questi giorni avrete una marea di notizie sul mondo di COD Season 5 e COD 2020. Ecco la prima immagine di quello che sembrerebbe essere il fucile Remington 700 che arriverà nel gioco forse come terza arma di metà season. Ringraziamo The Gaming Vanguard appunto per la notizia. Ma vi faccio vedere qualcosa ancora di più importante. Ieri vi ho mostrato il gameplay della N94, due giorni fa vi ho mostrato il gameplay della PC9, quindi prima il nuovo fucile d'assalto poi la nuova mitralietta. Bene, ecco la prima immagine più dettagliata del fucile Remington 700 che arriverà nel gioco forse come terza arma di metà season 5 secondo il Liger Booktor. Come vi dico sempre ragazzi non vi basate troppo sulla grafica perché ovviamente non è i dettagli perché queste sono le versioni che vengono trovate all'interno dei file di gioco alpha quindi poi vengono ovviamente modellate meglio per il risultato finale. Ma una cosa ancora più importante vi faccio vedere addirittura il gameplay del nuovo fucile tattico Remington 700. Avete capito bene perché il cecchino R700 che su Modern Warfare arriverà come Remington 700 sarà un fucile tattico che all'occorrenza appunto sarà un cecchino. Come abbiamo visto in passato per il CAR, come abbiamo visto in passato ad esempio per l'SKS. Vi darò conferma nelle prossime ore se sarà proprio la terza arma della meta season perché è stata trovata nei file di gioco. State vedendo addirittura il gameplay ma come è successo in passato tante volte vengono trovate nuove armi che poi arrivano alcuni mesi dopo. Però al momento intanto N94 a PC9 è confermato. Vi darò maggiori informazioni invece sull'R700. Vi ho detto season 5 bene Activision tramite mail inviata agli utenti proprio in queste ore iscritti alla newsletter ha confermato che l'update della season 5 sarà rilasciato mercoledì 5 agosto alle ore 8 in Italia. Quindi ragazzi segnatevi subito l'appuntamento ore 7 e 30 del mattino mercoledì 5 agosto saremo in live per seguire l'evento appunto di season 5 sul mio canale in live. Quindi come sempre iscrivetevi anche sulla mia piattaforma viola. Secondo alcuni rumors invece Activision potrebbe implementare un bonus preorder per chi acquisterà il nuovo capitolo della saga di COD 2020. Frank Svood che i dataminer avevano trovato nei file di gioco e che avevo mostrato anche con delle immagini potrebbe addirittura arrivare su MW e su Warzone per chi comprerà COD 2020. Questo è già accaduto con Model Warfare che regalava la skin di Price per Blackout. Se ben vi ricordate la modalità Battle Royale di Black Ops 4. Al momento queste sono soltanto delle speculazioni ancora non confermate da Activision ma di cui vi darò maggiori sviluppi nelle prossime ore. Invece vi faccio vedere a quanto pare gli emblemi sfide ufficiali della season 5. Ecco come si presentano i nuovi emblemi che potrete ottenere completando le sfide progressione grado delle sfide ufficiali della season 5. Veramente molto belle e ricordano i primi prestigi se ben vi ricordate quelli che c'erano all'inizio di Blackout quando si arrivava a livello 80-81 barra stella. E un po' ricordano anche i livelli dei prestigi di Ghost. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Questo era tutto quello che vi volevo dire nel nuovo video informativo e giornaliero sul mondo di Call of Duty. Vi aspetto 13.30 in live sulla piattaforma per giocare insieme. Lasciate un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube per non perdere tutte le prossime notizie su Season 5 e COD 2020. E appuntamento con me ore 7 domani qui su YouTube con un nuovo TG COD. Grazie a tutti.